Buonasera a tutti, sono Luigi Naracco se preferite e benvenuti a un nuovo episodio della Naracco Dokkan School Come vi ho detto ieri, oggi affronteremo 10 consigli utili per affrontare la Dokkan ROAD Iniziamo quindi col primo Concentratevi sulle ROAD più fattibili Allora, ragazzi, la ROAD non è un evento per tutti come vedremo nei prossimi punti Dovete concentrarvi sulle ROAD più semplici, tra molte virgolette A prescindere dal vostro box, le ROAD, cioè in generale le ROAD che ho notato essere più semplici e con più tasso di completamento Sono innanzitutto la Tech, Super Tech, seguita dalla Super STR, seguita volendo, volendo, anche se alla lontana per ora, dall'Extreme STR Queste tre sono le ROAD migliori Naturalmente, ragazzi, avete bisogno di PG Se non avete i PG, non potete farli a prescindere Però, la ROAD Super Tech vi necessita di pochi PG ad ability, di quelli pullabili Gotenk Super Saiyan 3, con me è un PG vecchio come il cucco Gogeta Super Saiyan 4, ok, è uscito solo una volta, ma probabilmente nei prossimi tempi uscirà di nuovo Quindi potreste non avere alcun problema a ritrovarlo Non dico che uscirà nella prossima batch di Veget, però a Natale di sicuro uscirà Siamo sinceri, è quasi impossibile non eschi a Natale, non credete? E Extreme STR, nel caso avete Broly, potrebbe essere la ROAD che fa per voi Benché sia abbastanza più complessa delle altre due Richiede un pochino di PG con ability Però può portare davvero molte soddisfazioni Ricordatevi come è stata la ROAD E nel caso della Super Tech potete andare tranquillamente contro qualsiasi nemico Non cambia davvero molto, riesce ad affrontare sia i 2, che i 3, che i 4, che i 5 Nessun problema Nel caso del Super STR dovete mirare a una ROAD resettando all'inizio Finché non capitano molti 2 e 3, nemico finale Nel caso di Extreme STR invece dovete mirare molto alle coppie di tanti nemici Quindi le 4 e le 5 Provate per credere, se avete i PG dovreste riuscire a farne Aggiungendo anche magari un po' di culo Secondo consiglio Non impazzite se non ci riuscite È un evento endgame, non free to play Ovvero, sto vedendo una marea di gente incazzarsi a morte se non ce la fa Sia con Team Ability, sia con Team del Cavolo, sia con Viedimento Ragazzi, non c'è bisogno di impazzire Non è un evento alla portata di tutti ed è giusto così È un evento che riusciranno a fare soltanto quelli che hanno determinati PC e determinati team Se siete free to play difficilmente potrete ottenere Gohan LR Ma potrete comunque mirare magari a finire la Super Tech E finendo la Super Tech pian piano arrivare a prendere Gohan Basta fin... basta Tra molte virgolette basta Avere... Completare 20 volte una qualsiasi... Qualsiasi numero... Qualsiasi combinazione degli stage Per riuscire a portarsi a casa una copia di Gohan E ragazzi Potrebbe essere il caso di farsi 20 volte Super Tech Richiede PG per la maggior parte free to play Volendo esiste anche la versione con 4 free to play Oltre a quella con 3 che ho usato io Quindi approfittatene Di sicuro siete free to play il team che vi consiglio di portare Nel caso non abbiate però i PG fondamentali Ragazzi, aspettate Non c'è bisogno di impazzire Davvero Dai tranquilli E dovreste riuscire Anche in futuro magari A portarvi a casa Gohan Consiglio numero 3 Non provate a usare i soliti team Siate intelligenti Ragazzi ci sono troppe persone Che sto vedendo Mi chiedono consiglio Mandando un meeting Che usano nei 50 stamina Nel gruppo persone che si lamentano Oh cavolo il mio team Doppio Goku quarto Pieno di PG Ad abiliti Altra che fanno cateremo di danni Muore subito Ragazzi Non è un 50 stamina La road è un... È una... È un gioco a parte Di chiedere determinati IPG Senza quei team non vanno Super CTR è obbligatorio avere Vegeta Super Saiyan 3 O non vincerete mai Mai Ma-i È necessità anche di avere Un determinati nemici contro Andate contro 5 nemici Non avete il dockham pronto Avete perso Quasi sicuramente Quindi Non... Non andate là Con team normali Studiatevi team Studiatevi la road Studiatevi le combinazioni Non andate con team Alla cavolo di cane Se non per vedere com'è Le prime run Ci sta a fare team Alla cavolo Perché non conosci l'evento Quindi Può andare La seconda run Però La terza La quarta Quando capite che è un evento Che non potete fare Con un doppio gogetta Goku Junior Piccolo Trunks Goku Godwiz Createvi altri team Consiglio numero 4 Direttamente collegato al 3 Studiate bene tutti i personaggi del gioco Potreste avere delle sorprese Ovvero Non rimanete fossilizzati E top meta In questo evento Guardate Come ho vinto io Con che PG Ho giocato Piccolo Baba Un PG Di valutazione Bassissima Bassissima Ma che ragazzi Mi ha fatto vincere Piccolo Baba Senza Piccolo Baba Non avrei mai vinto Ve lo posso assicurare Ho giocato Goan Kidd Icarus Inutile il super tech Senza di lui Escluso che non volessi usare 20.000 orb Su satana e l'er Non avrei mai vinto Studiatevi i PG del gioco Potreste ricevere più di una sorpresa Quel rifint SR Che riduce i danni Che subisce dai tech Adesso è buono Quel Baba Krilin Che usai all'epoca Contro Broly 50 stamina E che non si gioca in super CTR Adesso Brilla di luce propria E poi ci sono PG Che hanno sempre brillato E continuano a brillare Vedi la super saiyan 3 Che magari non si gioca più In versioni complete del team E super CTR Ma ora sono quasi più importante Di Goku super saiyan 4 E di Goku Kid super saiyan 3 Perché ti fanno sopravvivere Vecu 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 PG del cavolo È fondamentale Nella rod super fisica Fondamentale Benché sia rischioso Comunque usarlo Perché non sempre tanca Però quando tanca Se vi tanca già solo Due attacchi Potete permettervi di prenderne un altro Perché subirete meno danno Soprattutto magari Se avete debbaffato L'attacco nemico Goku Goku Metal Cooler 50% di stun È utilissimo Il super fisico Ora Ma nel team Non si giocherebbe Solo in versioni incomplete Studiate i PG Abbiate la mente Aperta Non è più Come nei Dokkan Event In cui devi usare Il team più forte Per concludere Qua devi usare il team Più intelligente Con i PG Più ricercati Per quello che sanno fare Consiglio numero 5 Resettate la rod Cosa intendo con resettare la rod La rod costa 0 stamina Avete infiniti tentativi al giorno Non vi costa nulla Se entrate Vedete che avete nemici Che non potete affrontare Uscire Perché vi dico questo Perché non tutti i team Ad oggi Possono affrontare tutte le rod Supertech Può vincere a prescindere Supertech Abbiamo avuto La dimostrazione Io e Felician Abbiamo avuto Run completamente diversa E team diversi Anche loro Però La base era quella Io sono arrivato All'ultimo A prescindere Da contro cosa andasse Se fosse andato Contro Boo Quest'ultima Nell'ultimo run Che ho vinto Avrei vinto Comunque Ragazzi Ve lo dico Quindi Supertech Non ha problemi Contro cosa andare Gli altri invece Hanno problemi Come ho detto Nel video di ieri Supersttr Ad esempio Deve andare In un road In cui avete Pochi nemici contro Due massimo tre In modo a poterne Stannare sempre uno Stancare l'altro E ammazzarli con Goku Superfisico Dovrebbe andare Più o meno Nello stesso modo Avete quindi Gohan Gohan Mecha Cooler Stannate uno Attaccate l'altro Extremesttr Invece Guai Dovete avere Più nemici Possibile Perché più nemici Avete Meno vita Hanno E Broly Li può buttare Tutti giù Facendo rimanere Uno solo Che fa solo Lui gli attacchi Che magari Janemba riesce A evadere Capite In base al team Dovete utilizzare Diverse strategie Ditemi se volete Un video In cui vi dico La mia Su ogni team Del gioco Perché le idee Ormai me le son fatte Unica cosa Aspettate Minimo Minimo Domani Anche se domani Dovrò Veget 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 Domani Si entra in puro Veget Dovrò anche preparare Un pochino di video Però ditemelo Se entro sabato Anche sabato Ho un giorno libero Stasettimana Che festa L'uno Volete che Prepari un video Con come secondo me Ogni team deve andare Posso farlo Le idee ce le ho E magari Vi aiuterà Quindi Resettate sempre Non dovete fare Gli eroi E rischiarvi La run Più difficile Soprattutto se non avete Ancora finito Nemmeno una volta Cercatevi le run Che vi permettono Di vincere Dura una ventina di minuti La road Massimo mezz'ora Non è neanche così lunga Anche se vi sembrerà Durare all'infinito Però Mirate la vittoria Non volete fare Non vogliate fare Gli eroi Adesso Ci sarà come per ogni evento Un momento in cui Sarei talmente forti Da distruggerla La road Cederà anche Per questo Come è successo Per la boss rush 3 Però Aspettiamo Magari Con i 140 Diventerà molto più facile Però Il 16 Ascone i 140 Non adesso Consiglio numero 6 Mantenete il sangue freddo Ragazzi I scontri sono hard Non importa che team utilizzate Che sia full ability o no I scontri Sono pesanti I nemici Hanno dai Milioni e mezzo Nel caso Ce ne siano 5 Nel primo stage Fino ai 6 milioni E passa Di bua L'ultimo stage Di Goku Super Saiyan 3 Non dovete Abbassare la guardia In nessun momento Ci vuole sangue freddo Mente lucida Se avete paura Di sbagliare Chiudete il gioco Rilassatevi Poi tornate Non è lunga Ma è estenuante Come evento Se non siete concentrati Fate tutti i calcoli Di cui avete bisogno E sapete come giocare Può diventare un inferno Rimanete concentrati Sul vostro obiettivo Studiatevi bene Fate run Prima Anche perdendo Anche non usando oggetti apposta Io Tra la prima La seconda E la terza run In mezzo L'ho fatto alcuni In cui mi sono fatto Uccidere apposta Ho dato solo senso Ho usato oggetti forti Per memorizzarmi Come funzionavano i boss Quanto ricevevo di danno Con ogni pg Che tancava In modo da sapere Per le run successive Quando O quando Non usare gli item Imparatelo Evolvete il vostro metodo di gioco Per questa modalità C'è questo Non è più la modalità Lancio la monetina Esce testa Critto vinco Questa è la modalità In cui ho imparato a giocare Con la testa Un gioco che non l'ha mai richiesto Oppure Difficilmente Andrete avanti Quindi sangue freddo E impegno Ragazzi Consiglio numero 7 La difesa E l'attacco Ragazzi Collegato Direttamente Ai consigli 3 E 4 In questa Modalità Più che in ogni altra Sono importanti Le funzioni Di ogni singolo pg E la costruzione Del team Partiamo dal presupposto I buffer Non servono A nulla Salvo che non siano Buffer particolari Trunks GT usato a Feliciano Goku Kid Super Saiyan Che poi addirittura diventa Grande scimmia Regalandomi turni preziosi In cui farete pochissimo danno Ma lo farete E non potrete morire Virus Che vi regala turni preziosi Carando la vita In cui potete anche stannare Anche se non se ne mancavano Lo stand di Virus Quando vai in furia Non l'ho mai capito E mai lo capirò Sono cose preziose Studiatevi pg I pg I pg Difenderanno Avranno difesa Solo se avranno Riduzione del danno In percentuale Non funzionano pg Con difese elevatissime Salvo che davvero La difesa non raggiunga Dei livelli tali E il nemico Si è debuffato In attacco E' obbligatorio Che sia debuffato E allora potete Tancare Se non avete Modo di debuffare L'attacco avversario E ragazzi Ve lo dico Non serve Il debuff di Gogeta Non serve Il debuff di Bardak Serve un debuff In passiva Golden Freezer Angel Vegeta Blue Gogeta Super Saiyan 4 Grande Mago Piccolo Int Tour Sono pg Re Cold Zamasu Sono tutti pg La cui utilità Aumenta Enormemente In questa modalità In quanto Vi permettono Di ridurre L'attacco avversario Che unito A un tank Con difesa alta Riduce il danno Ma non pensate Di andare là Con il solito Vegeta A 60.000 Di difesa O con il Goku 40.000 Di difesa E pensate Di ricevere Pochi danni No Ricevete anche Troppi Con ultimate In turno Col basso Il 50% 50.000 Danni Janemba Non serve La guardia Ve la rompono Quindi Utilizzate Questo come difesa Aumentate L'abilità Difesa contro L'attributo Negativo Quindi Aumentate Quell'abilità Che non abbiamo Mai aumentato Di aumento Di difesa È un 10% In meno Di danno È tanto 7-8 attacchi È tanto Per l'attacco Mirate A PG Che facciano Danni seri Gli attacchi Devono solo Essere seri Ability Obbligatoria Critici A manetta O ancora meglio Additional In questa modalità I critici Non ho capito Ben perché Non hanno Un'effettiva Utilità Più di tanto L'additional Può essere La chiave Soprattutto Gogeta Gogeta È meglio Averlo Additional Come amico In questa modalità Mentre 50.000 È data la loro Difficoltà Molto più bassa E molto meglio Critico Gogeta Quarto Idem Additional Aumenta ulteriormente La sua difesa Tanca Critico Permette di ridurre Di pochissimo Di un attacco Magari La battaglia Parliamo anche Un po' Dei supporter Gli unici supporter Che vi serviranno Saranno Healer E purtroppo Ce ne sono Pochissimi Decenti Nel gioco Goku LR STR Per quei due O tre Che ce l'hanno Penso che Chi mi segue Non ce l'abbia Nessuno Oppure Stunner 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 grossi Blue Vegeta Goku Super Saiyan Ci vogliono Stunner decenti E in alcuni team Vanno bene anche gli Org Manipulator Ed eccoci qua L'ottavo Consiglio Le rotazioni Ragazzi Dovrete cambiare M2 giocare Anche nelle rotazioni In base al team I pg che prima erano Staple Fissi in rotazione Non lo sono Più Team Super STR Goku Kid Non è staple In rotazione Goku Kid Se lo giocate Ruota fuori Perché? Perché è più importante Avere Krillin Baba In rotazione E Vegeta Super Saiyan 3 Che riducono Gli immondi danni Gohan Kid Aumenterà il danno Che fate Eh ma purtroppo Ragazzi Subisce troppo In Super Tech Gotham Super Saiyan 3 Full Ability Fuori rotazione Se usate il mio team Con Gogeta Perché? Perché Bulma E Piccolo Sono più importanti Modificate il vostro Modo di giocare Modificate quello Che pensate sia il modo Di giocare nel team Apposta per la road Evolvetevi come PG E questo Il segreto della road Dovete evolvervi Fare L'aumento Fare lo scalino Che imparate di essere Un player migliore In questo gioco Dato che per la prima volta Ci finalmente richiesto Usare un pochino di testa Non rimanete fermi Alle rotazioni classiche Modificatele in base A come vedete Che funziona E tenetele fisse Io ho modificato una sola volta La rotazione Perché sarei morto Può succedere Può succedere Ma siate reattivi In modo da Salvare tutto quanto Era un turno In cui avevo 5 attacchi alla fine Non l'avrei letto Non potevo chiudere Ho dovuto giocare Bulma Per ultima Questo ha comportato Quindi che avrei avuto Un turno senza tank E quel turno Chiudevo O giocavo con Stasher Turno dopo Mi sono spostato Piccolo ultimo In modo da non rimanere In un turno con 2 tank E sono riuscito A portarmi a casa La run E volvetevi ragazzi Ed eccoci al penultimo punto Il Dokkan Anche sul Dokkan C'è da parlarne Allora Moltissimi team Soprattutto quelli più scarsi Arriveranno al Dokkan Nella fase 2 Se arrivate al Dokkan Nella fase 2 Difficilmente Sarà un Dokkan Distruttivo Sarà un Dokkan Difensivo Ovvero Chiuderete la fase Ricaricandomi totalmente Gli HP Ma la fase sarà già Più di metà fatta Quindi utilizzatelo Proprio come Metodo per Ricaricarvi gli HP E iniziare la fase dopo Full Team molto forti Invece potrebbero iniziare La terza fase Col Dokkan Ecco Iniziare la terza fase Col Dokkan E' ottimo La terza fase Di solito sono 3 4 O 5 nemici In base A cosa vi capita Iniziare con Dokkan Vuol dire Nel caso se hanno 5 nemici E fate il Dokkan Come dovete fare Con un pg davvero tosto Riuscire a bloccarli Ad ammazzarli Almeno 2 o 3 Il boss principale Non lo ammazzate Già nella fase 3 Ha 4-5 milioni di vita Però i più piccoli Si E cambierebbe Tutto quanto Tutto in alcuni team Che hanno stunner E hanno sempre Un tank in rotazione Cambia la storia Il luce di molto La difficoltà D'altro canto Che utilizzerà Il Dokkan Nella fine della fase 2 Avrà il vantaggio Di poter utilizzare Se ci arriva nella fase 4 E là diventa cruciale Il nemico Che avete nella fase 4 Se avete 5 nemici Iniziate ad ammazzarli Un paio Ma poi mirate direttamente Al boss grosso Perché il Dokkan Molto probabilmente Eliminerà Gli altri due piccoli E l'ultimo consiglio Ragazzi Il decimo È Non avere fretta Ragazzi Dokkan Sta per avere Una seconda Di nascita A novembre Arrivano i livelli 140 A dicembre Probabilmente Non arriverà nulla Di che Gennaio Avremo il terzo anniversario E le passive modificabili Di cui ormai Si parla da quasi un anno Sono dietro le porte Sono vicine Il gioco Cambierà Si evolverà Prima o poi Il gioco si evolve Sempre Fino alla fine Perché non può rimanere Fossilizzato Le passive modificabili Sono la prossima Ability Shark La prossima evoluzione Del gioco Il prossimo salto Di difficoltà E spero Non la prossima rottura Come è stata l'ability Rimanete Calmi Non abbiate fretta Di avere i gol Nell'R Finché non esce un PG Che dà più stats Di lui In leader skill A tutti i colori È il miglior leader Rainbow Ho tolto Goku Nell'R Ma Goku Nell'R Quasi tutti quelli Che mi seguono Lo avranno Non so neanche Se arriverete ad averlo Sinceramente Quindi Non abbiate fretta Fate quello che riuscite Se volete di non farcela Dimenticatevi l'evento Tenetevelo là Arriverà il momento In cui usciranno Nuove PG Nuove abilità Nuove cose Che faranno fare Questi stage Con molta più facilità Nuovi free to play Magari Nel global Soprattutto Esce Veget Candy Veget Candy È un PG Che io avrei giocato Molto volentieri In super tech Avrebbe subito Danni assurdi Ma l'avrei buildato L'avrei maxato In ability Scontratamente A 15 di evasione Quel robo Però avrebbe potuto Ridurre di tanto I danni globali Quindi ragazzi Non abbiate fretta Non dovete dimostrare Nessuno di essere in grado Di fare questo evento Subito appena esce Al day one Io al day one Devo finire per forza Almeno uno stage No Non dovete dimostrare Niente a nessuno Fate quello che Il vostro account È in grado di fare E detto questa Io vi ringrazio Che mi hai seguito Non so se uscirà Un altro video stasera Potrebbe uscire Riguardo magari Veget fisico Un tanto nei gruppi Whatsapp Di sicuro Avrò detto la mia Sul PG Perché Questo video Lo sto registrando Domenica sera Uscirà Lunedì pomeriggio Ne deduco Che ci siano già Tutte le info Necessarie Su Veget Di solito Escono la mattina Prima che esca E sicuramente Avrò già detto Tante Avrò già detto Cosa ne penso Del PG Magari uscirà Un flash news Stasera Rimanete sintonizzati Vi ringrazio Mi hai seguito Link in descrizione Per tutti i gruppi Facebook Non mi ricordo C'è anche i gruppi Whatsapp E altro Il gruppo Instagram Del sommo Onnipotente Priscilla Che vi regala tanta fortuna E se volete supportare il canale Vedere dei video pool O semplicemente ringraziarmi Con una donazione Sempre link in descrizione Solo Maggiorenni Un grazie a tutti E ricordatevi Feliziano